E' saltato il collegamento, cioè la copertina, va bene, può capitare. Allora, Franco, dimmelo tu, visto che sei in diretta con noi, come stai innanzitutto? Allora, innanzitutto adesso sto bene, ma nel 2020 a ottobre ho avuto il Covid, con le conseguenze classiche, mancanza di gusto, mancanza di olfatto e tra parentesi la mancanza di olfatto con la canapia che ho era una cosa un po' quasi assurda. Poi niente, a distanza di quasi due anni, cioè da due mesi fa circa, mi si è risvegliato il morbo di Crohn che io ho avuto da ragazzo e che era sparito per 30 anni. Per cui sono stato curato dal dottor Furnari con del cortisone. Però il cortisone cosa ha fatto? Bene da una parte e male dall'altra, perché mi ha fatto venire la candida nello stomaco, assieme a un piccolo herpes, che mi ha curato l'amico Matteo Bassetti, col quale prima o poi dobbiamo fare, vederci e cantare una canzone insieme. Ormai siamo colleghi, eh? Casomai quelli dell'ascolta ci fanno d'accordo. Però io le presento adesso un altro medico che è il Pregliasco, perché Bassetti se n'è andato, gatti, adesso. C'è un altro medico che la sta ascoltando. Non lo salutavo. Bravo, tanto uguale a Bassetti. Eccolo qua. Professore, dunque... Sì, sì, so che il dottor Pregliasco è forte. A meno. Senti, allora, insomma, Franco, è successo tutta questa serie di cose, per cui adesso come va? Sì, sì. Adesso come va? E poi sei in attesa di vaccino? Adesso va bene, perché... Sì, sono in attesa del vaccino, perché quando facevo la cura di cortisone non potevo fare il vaccino. Quindi sono rimasto svaccinato. Ero proprio... Mi dispiaceva tanto, perché purtroppo la preoccupazione c'è quando non si è vaccinati. Io non sono un no-vax, eh. Io mi chiamo gatti, sono un no-gat, tra l'altro, invece. Per cui voglio fare il vaccino. Adesso che sto bene, finisco ancora una curetta e poi lo vado a fare. Ecco. La moglie, invece, come va? Perché poi insieme, chiaramente, quando... Io, anch'io... Te lo sei preso pure tu, Stefania? Eh sì, due anni fa, comunque, nel 2020. Per me è stato, sì, per me è stato abbastanza sintomatico, ecco, a differenza di Franco, che ha avuto qualche problema in più. E io sono vaccinata, anche perché non ha avuto conseguenze da Covid, cosa che invece Franco ha avuto, cioè gli si è riacutizzato la sua patologia. E non so se sia a causa del Covid, comunque è stato abbastanza male, ecco. Per cui la cura di cortisone, la cura forte di cortisone non ha permesso di fare il vaccino, pregliasco, mi dica lei perché... Non è stato assolutamente corretto l'approccio dei curanti. Esattamente questo. E quindi è importante perché il cortisone è un ottimo strumento di cura, anche per il Covid stesso, ma da graduare perché ha pesanti effetti collaterali. Quindi con un cortisone molto, come dire, con una somministrazione molto pesante, si riduce la risposta immunitaria dell'organismo e quindi la vaccinazione avrebbe avuto poco effetto. E quindi è stato giusto sicuramente posporla, pur appunto nella complicanza, insomma, della non potersi proteggere. Io spero appunto che terminata la cura, come si diceva, e i guai conseguenti, insomma, che sono stati, come dire, un insieme di disfortune, possano permettere l'opportunità della vaccinazione che c'è ancora, ci sarà nel futuro. Perché, come si diceva, convivremo con questo virus, sicuramente con tante armi, i vaccini, i nuovi farmaci, anche alcuni anticorpi monoclonali che potranno essere usati, per esempio, in situazioni come quelle... Adesso si è passata alla quarta dose, no, Daniele, per gli immunodepressi, per gli immunodepressi, per gli soggetti fragili, disabili, eccetera. Ed è consigliabilissima, il professore lo sa benissimo. L'ultimo passo, sostanzialmente, dovrebbe essere poi questo, per arrivare alla prossima stagione coperti, protetti e soprattutto tranquilli. Ecco, però, ad esempio, Franco, giustamente dice, io non sono no-vax, anzi, sto aspettando una dose di vaccino, non ho potuto vaccinarmi, perché ho fatto una cura di cortisone, avevo dei progressi e per cui, insomma, sto aspettando ora il vaccino, però nei numeri, nei dati, Franco, come tante altre persone che non hanno potuto vaccinarsi per cause simili nei dati, vanno a finire tra quelli non vaccinati, Alberto. Per cui è anche un po' complicato, a volte, in tutti questi dati che noi abbiamo dato in questi due anni, no, dati di qua, numeri di là, è anche complicato capirci qualcosa. Non c'è più domande da fare, che risposta da dare, faccio il giornalista di guerra, figuriamoci. No, la cosa che mi, quello che mi curiosisce, visto che c'è qua il dottor Pregliasco che ho già incontrato altre volte, è capire come mai ancora ci sono ancora tanti decessi e chi colpisce questi decessi, vaccinati, non vaccinati, che genere di età. Questa è una domanda, non è. Bravo. E la domanda la facciamo a Pregliasco, allora? No, allora, sicuramente la quota più rilevante è fra i non vaccinati, fra i vaccinati con due dosi a distanza, cioè ormai, diciamo, fatte nella prima fase, e a volte anche con terze dosi, ma in soggetti con comorbilità. Quindi la barriera del vaccino è statisticamente provata, anche a distanza di sei mesi dalla vaccinazione, la protezione del 93%, quindi non è il 100% e questo fa sì che una quota parte anche in proporzione di vaccinati abbia questo esito pesante o comunque dei ricoveri. Però il dato oggettivo statistico di confronto fra il rischio di morire per i non vaccinati e i vaccinati è assolutamente macroscopicamente a favore dei vaccinati di 50 volte, quindi davvero in tutto il mondo, in casistica internazionale. Non è una protezione al 100%, ecco, è questo l'elemento che ci deve far mantenere una certa attenzione alla malattia e in più questo parametro è quello che sappiamo, seppur siamo in una fase di miglioramento, che migliora dopo perché la carriera purtroppo di sofferenza di chi è colpito in modo pesante è piuttosto lunga e quindi a fronte di una crescita che c'è stata fino a poco tempo fa subiamo questo dolore, che vuol dire un aereo che cade ogni giorno, perché il numero è quello di un aereo di linea che casca. Quindi è importante dare questa prospettiva di positività per il futuro, ma io dico non un liberi tutti perché si sottovaluta un effetto ancora di presenza. Che cosa sta succedendo, che di nuovo è ritornato lockdown a Hong Kong? Che cosa sta accadendo? Pensavo a Londra dove invece ragionavo su liberi tutti. A Londra hanno preso le misure liberi tutti, ma non è così. Esattamente il contrario di quello che diceva il professor Pregliasco. E a Londra, ma credo che lì ci sia stata anche una logica politica, un ragionamento politico, si è deciso di aprire in maniera sciagurata completamente le porte. Così da sconfessare in parte anche quello che si era fatto fino al giorno prima. Questa è un po' l'assurdità, l'incongruenza. Perché poi anche lì c'è un sistema sanitario con dei medici, degli infermieri che si sono dannati l'anima per cercare di salvare le persone e da un giorno all'altro si è liberato. Scusami, Pregliasco, Hong Kong ha record di 7500 contagi. Che cosa sta succedendo? Perché anche di questo non ne stanno parlando. Ma sono ritornati indietro. Sono i due antipodi. L'onda da una parte e Hong Kong dall'altra. Perché se ci sono i vaccini siamo arrivati a questo numero così alto di contagi e stanno richiudendo tutto? Ma l'onde, la quarta nostra ondata, stiamo per finirla. L'Inghilterra è un po' più avanti di noi. Quindi non si tratta di un'onda uguale in tutto il mondo. Purtroppo Hong Kong sta subendo ciò che noi abbiamo già subito durante il nostro inverno. Quindi non c'è una sincronia di presenza nel mondo. Loro stanno subendo questa presenza della variante Omicron e quindi di un approccio ancora non facile che speriamo anche per loro si risolva. Sono più indietro di noi in questo senso? Sì. Non sono andati avanti? Sono rimasti indietro. Diciamo a quello che noi abbiamo vissuto a novembre, ottobre, novembre, dicembre. Allora, lei è stato citato a Sanremo, sul palcoscenico da Amadeus. Non da Amadeus, da chi era? Da Checo Zalone. Da Checo Zalone è stato citato? È stato divertente. Insomma, è giusto un approccio impositivo. Qualcuno usa in modo dispregiativo Virostar, ma in realtà abbiamo fatto comunicazione, abbiamo cercato pur con i limiti di quella che è la scienza e quindi delle difficoltà, ci sta che si venga presa in giro, non ci sta che ci minacci. Ecco, questo invece è ironia. Saper ridere è importante. Avendo imparato a conoscere Pregliasco, io credo che non veda l'ora di ritornare in una sorta di tranquillità. Non dica anonimato che ormai lo ha perso. Allora, invece Franco, lo abbiamo visto, ormai sono passati due anni, no? Dalla vostra riunione, Franco, a Sanremo. Vediamo un pezzettino, dai. Due anni fa, sì. Sì, dai, che è stato bello. È stato bello, sì. I ricchi e poveri! Se apri gli occhi tuoi, un giorno tu vedrai che ogni amore che hai sembra l'ultimo. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane, sei tu. Tra gli alberi, una stella, la notte si è schiavita, il cuore è innamorato sempre più. Che sarà? Che sarà? Che sarà? Che sarà? Che sarà nella mia vita? Chi lo sa? Che sarà? Sarà quel che sarà? Sarà quel che sarà, che sarà, sarà. Un vero evento a Sanremo, al settantesimo festival, la formazione originale dei ricchi e poveri! Come te lo ricordi quel momento, Franco? È bello, nostalgico, perché quando siamo partiti insieme, in quattro, nel 67, eravamo quattro ragazzi sgangherati, ma con tanta voglia di fare, di stare insieme. Di che anno sei tu? Eh, 67 era. E poi ci siamo persi un po' per strada, per vari motivi succede nella vita del gruppo. E ritrovarci insieme, io ci ho sempre sperato, perché noi abbiamo iniziato insieme e dovevamo, non dico chiudere adesso, ma chiudere insieme. E questo per me è stato una bella cosa alla faccia del Covid. Fra l'altro noi stavamo guardando queste immagini e Giovanni, tu te lo ricorderai bene, perché mi sa che commentavamo Sanremo proprio in quei giorni. Io, fra l'altro, era febbraio 2020, ero al quinto mese di gravidanza, dopo un mese scoppia il Covid in Italia. Ci dicono, no, chiuderà tutto e noi all'inizio non ci credevamo, Giovanni, non credevamo potesse accadere quello che poi è successo. Te li ricordi quei giorni? Sì, io sono stato, ero scettico, non comprendevo, ma anche i virologi e gli scienziati erano scettici, ci sono personaggi importanti che hanno raccontato che non era neanche un'influenza. Per cui diciamo che quando stava per arrivare in Italia eravamo tutti molto perplessi, cioè non era neanche immaginabile. Io volevo però dire e segnalare una cosa a Franco Gatti, perché non capisco, ho messo in atto medico, visto che sto seguendo le mie patologie, perché non ha fatto le vaccinazioni, chi la consiglia deve fare le vaccinazioni con il cortisone? Perché io, che sono immunodepresso, alcuni dicono immunodeficente, non so perché, ma dico immunodepresso, faccio il cortisone, prendo le cure monoclonali e faccio la vaccinazione, mi hanno fatto le tre vaccinazioni nonostante abbia anche il popolo. E stai molto bene, complimenti. Ecco, perché comunque il cortisone, come ha detto, riduce l'effetto potenziale del vaccino, ma non è che lo inibisce e ne fa del male. Secondo me è stata, io sono in cura in un ospedale pubblico, a San Matteo di Pavia, nelle malattie rare e naturalmente mi seguono facendomi fare tutti questi protocolli. Per cui, secondo me, è andata fin bene rispetto a quello che poteva accadere, perché se gli hanno consigliato di non fare il vaccino perché prendeva il cortisone, è stato un azzardo. Questo però lo dico con grande umiltà, non solo un medico. Franco, vuoi dire qualcosa a tu? E poi volevo un fragliasco su questo. Ma sì, io dico che me l'hanno sconsigliato di fare il vaccino durante il cortisone. Io ho seguito quello che mi dicevano un paio di medici, il dottor Furnari e altri dottori, mi hanno detto, ma aspetta un attimo, appena guarisci fai il vaccino. Tieni presente, Leonora, che praticamente non uscivo di casa io, evitavo qualsiasi tipo di contatto perché ero preoccupato di non essere vaccinato. Certo, Stefania pure non usciva di casa perché poi il problema è che se tu non esci di casa, però magari esce tua moglie, è una persona che ti viene a portare la spesa. Comunque non so quanto possa contare, comunque aveva tanti anticorpi, Franco, nonostante non avesse fatto il vaccino. Allora, apriamo. Candida Morvillo, ciao Candida. Allora, buongiorno, grazie di essere collegata con noi. Buongiorno. Volevo sentire solo preliasco su questa domanda del Covid che ha fatto Giovanni Terzi. Terzi ha detto delle cose assolutamente di buon senso e ovviamente bisogna valutare la patologia, le situazioni complessive, per cui è vero, ci si può vaccinare anche in terapia cortisonica, dipende appunto dal dosaggio, dal momento. Quindi davvero non deve essere considerato una controindicazione assoluta. È chiaro che bisogna sentire le condizioni cliniche complessive e ci sta questa possibilità di posporre. È vero, gli anticorpi anche alti sono un elemento che a volte hanno fatto ritardare la vaccinazione. In questo senso, come è stato peraltro detto, non sono ad oggi indicativi di una certezza di protezione. Quindi l'indicazione alla vaccinazione c'è comunque. Quindi bisogna vedere caso per caso. Però è stata un'utile puntualizzazione quella della non generalizzazione dell'esenzione o del posticipo della vaccinazione solo per la terapia. Sono ovviamente d'accordo e ringrazio Giovanni per la sua esperienza che è un modello. Voglio dire che molti non vaccinati, non non vax, vantano questa cosa degli anticorpi molto alti. Solamente tra miei conoscenti, quattro si sono comunque presi il covid. Quindi attenti perché il vaccino è veramente l'unica soluzione. Dunque, candida, stavamo vedendo prima, poi adesso sapevo che voleva intervenire anche Alberto, stavamo vedendo prima le immagini del Sanremo 2020. Quel Sanremo che fra l'altro credo fosse la prima conduzione di Amadeus. E vedere il pubblico, consideriamo che lì eravamo un mese neanche, meno, un mese prima, più o meno, un mese prima dello scopo, dell'inizio della pandemia e di tutte le chiusure. Impressionante. Sembra che sia passata un'eternità. Candida. Ma sì, è vero Eleonora, è stato l'ultimo nostro Sanremo pre-covid, in qualche modo veramente spensierato, perché siamo ai primi di febbraio, a fine febbraio succede Codogno, intanto c'era già la Cina, insomma è l'8 marzo, non arriviamo nel lockdown. Cioè queste immagini che stanno passando sono incredibili, perché comunque anche quest'anno di nuovo abbiamo avuto il pubblico in platea, ma certo non potevano stare lì cantando, abbracciandosi, come li vediamo in questo momento, cioè c'era ancora paura, c'erano ancora precauzioni, c'erano ancora misure. Abbiamo visto un Sanremo anche poi l'anno successivo con una platea completamente vuota. E proprio la coincidenza temporale fra la data in cui va in onda Sanremo e più o meno l'anniversario della pandemia, ogni anno insomma ci ricorda, segna un po' le tappe di questa lunga marcia che stiamo provando a fare, forse più lunga di quella che ci aspettavamo in quel fine febbraio del 2020, verso l'uscita della pandemia per l'appunto. Sì, l'inizio della pandemia è nel 2021, 22, anche nel 2021, cioè l'anno scorso. La pandemia si è presentata come un fatto politico prima di tutto. Nel novembre del 2019, New York Times e molti giornali internazionali danno la protesta sul web del pubblico cinese che vede morire alcuni medici, infermieri e persone e non capisce perché. Perché a dicembre questa protesta dilaga, a gennaio i cinesi chiudono le fabbriche e quando i cinesi chiudono le fabbriche doveva scattare un allarme, io ci schissi anche un pezzo. Quando arrivò qui il Covid, la gente era assolutamente impreparata. Io mi ricordo una dottoressa intervistata sul Repubblica che disse con il Covid mi farò un ciondolo d'oro, però nessuno aveva letto i giornali di quello che succedeva in Cina. In Cina erano chiusi da settimane e settimane le fabbriche. Quello doveva essere un segnale e in qualche modo doveva sollevare qualche lato. No, non solo portavano via la gente per strada, pensavano che fossero i fake. Te lo ricordi, Daniele? Esattamente. Che fossero le macchie di fake. Voi venivano a prendere a casa quando c'era una segnalazione di un contagio e chi si rifiutava di andare con i paramedici cinesi venivano portati via di forza. Di forza. Allora, Franco, noi ti ringraziamo, volevo poi ti aspetto in studio, chiaramente per un'intervista insieme, in presenza, come ormai si utilizza questo bellissimo termine. In presenza. In presenza. Senti, però volevo chiudere dedicandoti questo servizio che abbiamo fatto, un po' un riassunto di tanti vostri successi. Che confusione sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà, che sarà nella mia vita, chi lo sa? Mamma, 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 mamma Un'isola in mezzo al mare, basta chiudere gli occhi e saprai dov'è, devi solo sapertela conquistare, volevo, volevo, volevo così. Stubenda. Ce n'è una di preferita Alberto? Te canti ogni tanto. Ma io ne ho sentite tante di loro, tra l'altro mi ricordavo che uno di loro ha fatto il medico, mi pare, no? Gatti, uno di loro è stato, ha fatto medicina, mi pare. Io sono un chimico, no medicina, sono chimico, però non dal punto di vista, chimico industriale, diciamo. Ho sentito la storia, ho lavorato un po' come chimico. Siete la storia della musica italiana, siete grandi veramente. La storia, il presente e anche il futuro, eh Franco? Certo. Grazie, sarà il futuro sempre perché finché c'è vita c'è speranza. Io pensavo che la lampada di Aladino fosse una favola, invece tu e Eleonora sei uscita dalla lampada di Aladino, perché sei bella e brava. Però io ho tre desideri, eh. Uno si è realizzato, gli altri due non ancora. Allora, senti Franco, io ti abbraccio veramente, ti aspetto qua. Ma intanto spero che ti riprendi, totalmente. C'hai una domanda da fare? Approfittano, hai visto che c'hai Pregliasco qua, c'hai una domanda da fargli? Pregliasco, a lei che canzone piace? Eh? No, no, stupende tutte, ricordano proprio un periodo della vita. Una che canta sotto la doccia, Pregliasco, su. Sono stonatissimo e è meglio che non canti. Ma infatti non gli ho chiesto di cantare. Infatti. No, sono stupende, davvero. Come Matteo. Matteo, fortissimo. Va bene, possiamo fare, o Covid mio che stai sulla collina, vedrai che per un po' ti sconfiggiamo. Ecco, grazie, grazie allora a tutti quanti per essere stati con noi. Adesso, grazie Daniele Piervincenzi per essere stato qui. Alberto Negri, ciao Alberto. Cassani. Grazie. Tu rimani, dove vai? Tu stai qua con me, insieme alla Maluccelli. Ciao Franco, e un abbraccio grande a Stefania, vi aspetto presto qua. Ciao. Apriamo le nostre pagine.